Buonasera a tutti oggi andiamo a leggere tv su disi canzoni numero 17 dell'anno 1990 programmi tv dal 29 al 5 maggio 1990 per 1600 lire veniva a costare questa questo settimanale all'epoca allora ecco qua copertina dedicata da azzurro 90 e qui potete vedere infatti eder parisi di anni 30 e francesco salvi di anni 37 l'otto maggio qui ci ricorda che c'è il gran premio internazionale della tv ecco ricordo che su questo canale io e carlo che ben conoscete di questo canale abbiamo già dedicato una puntata ad azzurro 90 per cui casomai vi metto il link per poterla guardare abbiamo fatto proprio un approfondimento su questa su questa manifestazione musicale ecco e qui vedete la bellissima venirebbe di dire statuaria eter parisi appunto con francesco salvi e qui possiamo iniziare a vedere le prime pubblicità sperlare concorso caramelle sperlare mordi i temeri vinci uno dieci cento mille premi il lettera giornale con il direttore dell'epoca compianto gigi vesigna le magliette bianche fruit of the loom immancabili queste sono veramente un classico ecco qua delegato chiama hollywood una straordinaria passerella di super divi al galà di sorrisi qui vediamo elisabetta gardini che oggi sedata alla politica mi pare che sia anzi sicuramente con forza italia qui vediamo il compianto corrado e qui ancora un ancora giovane silberster stallone ospite a questa manifestazione purtroppo scomparsa non c'è più da tanti anni qua dice tradizionale l'appuntamento con la grande festa di sorrisi che ogni anno preme la trasmissione televisiva preferita dei nostri elettori con una grande sorpresa in programma silberster stallone che ha assicurato la sua presenza e tra gli ospiti tanti altri divi del mondo della televisione del cinema e della musica i presentatori di questa settimana edizione di questa settimana settimana perdono edizione del gran prima della tv sono elisabetta gardini e corrado e qui vedete appunto altri ospiti vabbè vediamo gregory peck qui vediamo ecco gracia colmenares all'epoca diva delle telenovelas qui forse l'avrete riconosciuto a cata in deneve ecco qui invece ecco proprio un divetto del 1990 in quanto era salvatore detto totò cascio il ragazzino il bambino è diventato famoso per il film nuovo cinema paradiso ma insomma molti di voi lo ricorderanno ecco qui le pubblicità delle videocassette all'epoca io ero abbastanza impelagato qui vedete la pana record una di quelle tante aziende che producevano facevano delle videocassette all'epoca punto witch watchers qui c'è il dolcificante ecco qui c'era però angela come vedete c'erano anche proprio le 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 parti scritte anche da da nomi celebri ecco voglio dire a partire dall'onorevole giulio andaleotti qui ancora video cassette tutta la grande storia dei mondiali di calcio e beh infatti era il 1990 quindi diciamo già all'epoca si poteva magari forse visto che c'era un po di fermento relativo al calcio si potevano ordinare appunto queste queste storie di mondiali di calcio attraverso il buono divisione gratuita e quindi anche l'ordine grande concorso biopresto ecco ci sono anche i dati d'ascolto e qui questo è interessante quindi il camera show chi vede alla ricerca dell'arca ecco c'erano anche quindi dei sondaggi ah beh già il fumetto di sergio staino con i migliori si vince anche qui vedete i mondiali vedi ufficiali licenze ufficiali di Italia 90 appunto con i jeans Carrera e quindi chiaramente si capisce che c'era già fermento nell'area per il discorso Italia 90 ecco qui potete vedere ad esempio Carlo Luna che parla della vera novità dell'epoca Fiat Tempra Turbo Diesel eccola qui eh beh qui veramente un classico potete vedere il caffè Kimbo con ovviamente l'avrete riconosciuto Pipo Baudo che all'epoca faceva tanta reclamma della era proprio testimonial di questo caffè ecco qui Corrado che qui dice giochiamo con Corrado ovviamente alla corrida primo premio una Opel Corsa poi c'era anche un videoregistratore e tanti altri premi ovviamente qua c'era il tagliandino per poter partecipare la NOSAM a PH 5.8 finalmente il piacere di lavarsi e di stare subito bene nella propria pelle faceva concorrenza alla Neutromed PH 5.5 ovviamente ah ecco questo è interessante io torno a casa insieme alla mia famiglia nei 78 giorni di sequestro Patrizia Tacchella passava le giornate guardando la televisione scrivendo pensierini ai suoi cari e facendo disegni tra i più belli un'ape e una nuvola con la scritta io torno a casa e poi abitini per bambini e biglietti d'auguri ai genitori per il loro anniversario di nozze e alla sorella maggiore per il compleanno il sequestro di Patrizia Tacchella raccontato dai suoi disegni ecco questa qui era una delle tante piaghe italiche dell'epoca i sequestri e poi dopo questo caso è diventato celebre al momento ma poi ovviamente di oggi non se ne sa più nulla ma per fortuna mi verrebbe da dire è un dramma che evidentemente ha superato però come vedete nel 1990 ancora si parlava di sequestri all'epoca c'erano anche di più noti ecco qui la pubblicità della marina militare qui possiamo vedere anche i video novità appunto le videocassette era proprio in pieno boom il 1990 di videocassette qui c'era addirittura il film più visti al cinema ecco un articolo dedicato a quattro storie con i baffi evidentemente quindi si parla di maurizio costanzo show che dice alla scoperta di cinque giovanissimi personaggi che nel salotto televisivo di costanzo si sono imposti all'attenzione per le loro doti comunque fuori dal comune per questo straordinarie prima della loro ricomparsa in tv siamo andati a trovarli nelle loro case per sapere come vivono nella normalità della famiglia qui vedete alcuni personaggi giovanissimi ecco tra cui dunque vediamo a ricky memphis cavoli giovanissimo quasi riconoscibile eh sì no si vede che lui questi qui me ne ricordano due ragazzini un po stravaganti diciamo eccoli qua anche lei me la ricordo assolutamente sì 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 cavoli sogna cassiani è già sogna cassiani adesso rivedendo questi personaggi mi viene in mente erano proprio in televisione lì da costanza erano personaggi un po particolari che andavano costanza era sempre la ricerca di diciamo di personalità piuttosto stravaganti da lanciare nel mondo della tv questi qui sono diventati famosi per un certo periodo poi sono spariti questo invece come potete vedere cavoli è rimasto ricky memphis e che carriera che ha fatto quindi deve dire deve dare tanto a morizio costanza che lo ha scoperto ecco qui bello vedere anche il the movie sound il cd portatile philips e quindi il si poteva ascoltare un cd mentre che si andava in giro quindi walkman per cd a spasso con l'oscar jessica tendy e un crow crony divi con semplicità fiat 1 1 che passione questa era la 1 versione seconda quella uscita diciamo dall 89 in poi era un giorno di vacanza ecco chi l'ha visto ecco addirittura un un articolo su chi l'ha visto ed evidentemente su uno dei tanti fattacci qui un concorso della dell'acqua ferrarelle il signor vinco tutto è il nuovo campione di tele mike e ha vinto 766 milioni e il monte premi potrebbe aumentare perché saltini è ancora in gara modenese giramondo si presenta su una materia decisamente insolita il gioco d'azzardo che ha trasformato in un vero lavoro e sul quale ha impostato gran parte della sua vita sta scrivendo un libro su come difendersi dai bari del poker e quindi lo vediamo al telefono con ecco e qui in varie situazioni casalinghe diciamo ecco qui c'è anche un'intervista questo personaggio all'epoca piuttosto noto proprio perché aveva vinto una considerevole insomma a tele mike che abbiamo alla copertina di maggio con clarissa bart pubblicità della opel corsa pop 84 perché magari è più giovane pop 84 era una un marchio un brand di jeans che non esiste più o forse esiste ancora non lo so non credo comunque bingo ecco qui concorso bingo tele mike con la schedina per poter giocare qui appunto primo premio opel corsa ecco profumi di stella con questo interessa me visto che sono collezionista di profumi ecco qui possiamo vedere un bell'articolo sulle stelle personaggi del cinema e della tv campioni sportivi famosi compositori negli ultimi anni decine decine di star hanno prestato il loro volto e la loro notorietà alle campagne pubblicitarie dei profumi firmandoli e garantendoli con il loro fascino e offrendo tutti la possibilità di entrare nel loro magico mondo in questa seconda puntata dedicata ai profumi ve ne presentiamo una nutrita rassegna esempio della felice del felice connubio fra senso dello spettacolo e senso degli affari e qui vedete alcuni profumi legati alle personalità che lo hanno lanciato oppure lo hanno firmato un bell'articolo questo molto interessante qui tanti profumi come vedete al cui io molti li conosco appunto perché sono collezionista però chiaramente molti di voi magari non li conoscono però vabbè posso assicurare che alcuni hanno avuto successo altri decisamente no costa marina ecco qua un concorso qui era la maniera ma nel 90 era trionfo di concorso in questo caso l'acqua fabia questo qui c'era un cine racconto lettere d'amore con robert de niro e già in fonda non riesco a girare acqua ecco qui le super classifiche di 45 giri e 33 e qui le recensioni e qui l'articolo dedicato ad azzurro 90 appunto vedete francesco salvi e eder parisi che tengono in mano il cartello azzurro 90 mare veneto estate d'europa e qui i vari cantanti che vi hanno partecipato ma come ripeto potete andare a vedere la puntata dedicata ad azzurro 90 qui una divertente fotografia appunto con salvi e la eter parisi in gambissima qui una pubblicità piuttosto lunga e qui andiamo a vedere invece i programmi tv allora abbiamo domenica 29 aprile domenica 29 aprile intanto vediamo qui una domenica in alle ore 14 con ospite pupo ecco qui vedete pupo ancora piuttosto giovane qui sopra anche un giovanissimo dario salvatori 38 anni cavoli come era giovane poi abbiamo alle ore 20 30 su lei 1 domenica 29 aprile 1990 chi trova un amico trova un tesoro veramente un classico con bad terence su canale 5 un altro classicone io questo lo vedo al cinema da bambino a nel 1982 madonna come passano gli anni c'era giovane c'era giovane in la prima parte di giovane su rai 2 alle 21 e 30 avevamo pianeta proibito armi e droga quindi un documentario qui avevamo su tele monte carlo avevamo i temerari un film su rete 4 avevamo un western la magnifica preda e su italia 1 ecco il celeberrimo anzi celebre emilio il varietà comico con che ha lanciato veramente tantissimi comici giuzurre gaspare vabbè loro erano già famosi comunque c'era silvio arlando ecco sabrina stilo bellissima come vedete qua purtroppo una delle tante starlette di quel periodo purtroppo sparite ecco su rai 3 potete vedere chi l'ha visto allora condotto dalla famosissima donatella raffai su audio in tv c'era un film di guerra tamburi lontani ecco vedete che qui c'era ancora copper capodistria e poi ovviamente italia 7 lunedì 30 aprile su rai 1 c'era un western dove la terra scotta però possiamo vedere una nuova serie che molti ricorderanno un alle 18.05 su rai 1 santa barbara era un uno sceneggiato una sopopera ecco su canale 5 la seconda parte di gandhi però alle ore 18 potete vedere ok è giusto con i vazzanicchi su rai 2 alle 20 e 30 immancabile l'ispettore derrick con l'episodio una notte d'ottobre e qui vedete invece dove la terra scotta appunto dicevo su rai 1 qui il flanetto un film del 58 su rete 4 avevamo alle 20 e 30 a cavoli topazio addirittura una una telenovelas in prima serata ecco proprio roba per massaia ed epoca buon pomeriggio con sentieri proprio rete 4 proprio nel 90 era l'apoteosi ecco quito pazzo l'apoteosi proprio delle delle telenovelas italia 1 avevamo invece come dura l'avventura ecco questo direttevole film di flavio mugherini dell'anno 87 con paolo villaggio e lino banfi e c'era anche una giovanissima brighitta boccoli sì sì un film piuttosto divertente al vero carro al zero in condotto cartone animato su rai 3 invece c'era il processo del lunedì in seconda serata in prima serata invece un giorno in pretura con la nostra classica roberta petreluzzi tra l'altro proprio in questi giorni sta annunciando che usciranno nuove puntate per cui dopo 30 anni ancora se ne parla complex rimuovi più placca con questo prodotto c'è ancora anche se non ha più questo aspetto grafico tanto bello anche sia un po vintage erano i primi conduttori e non all'epoca era un po' la novità ecco su rai 1 primo maggio festa dei lavoratori appunto prima maggio una festa in musica ecco qui quindi proprio una classico concertone su canale 5 c'era agnese di dio per i filmissimi ecco su rai 2 su rai 2 invece alle 20 e 30 avevamo 48 ore un classico film appunto che avrete visto in tanti su ecco qui maurizio costanzo show alle 23 20 con alcuni volti di del film la coperta anzi no del libro perché il film è stato fatto successivamente effettivamente del romanzo io speriamo che me la cavo ecco dal quale poi è stato tratto un film su rete 4 avevamo alle ore 20 e 30 un patton generale d'acciaio eccolo qui film un po d'antam ecco qui appunto sempre falcon crest il solito stuolo di sopopera ecco su italia 1 ecco questo molti di voi lo ricorderanno io sicuramente perché non me ne persi una puntata college che era la serie tv con federica moro e poi c'era anche c'erano anche altri personaggi fabio ferrari e altri del provenienti dal dai ragazzi della terza c ecco candy camera show ecco come vedete davide mengacci 41 anni madonna come era giovane gerry scotto anche lui 33 è che bello vedere tutti i giovani che di camera show non non mi perdevo anche questa una puntata era veramente un bel periodo e io all'epoca era un teenager per cui ero quasi sempre fisso su italia 1 su re 3 invece c'era la c'è la mia guerra un diciamo un dei documenti a cura di leo benvenuti a beh grande grande leo benvenuti ha scritto tanto per il cinema uno scrittore del cinema su vabbè leggo qui le breghe del padrone un divertente film di flavio mogherini eccolo qui del 78 e scusate le monte cardo c'era ciardicene e la maledizione della regina ecco qui eravamo aria inceraica di politica partito socialista una prospettiva d'avvenire per bettino crassi beh per quello che gli è poi successo pochi anni dopo insomma l'avvenire era un po' aveva il fiato corto insomma ecco mercoledì 2 maggio mercoledì 2 maggio alle ore 20 e 30 c'era una partita di calcio di coppa uefa finale di andata di juventus e fiorentina e su canale 5 invece alle ore 20 e 40 proseguiva la saga di dallas anche se comunque nel 1990 era un po' in declino però nonostante tutto nonostante era ancora in prima serata quindi qui vedete dallas poi c'era dynasty ecco qua forum ecco qui vedete rita dalla chiesa di 42 anni anche lei guardate come era giovane mannaggia ecco video comic ecco questa è una trasmissione molto interessante di rai 2 lo vedevo sempre quando si ama telefilm un altro sceneggiato diciamo poi di chi è questa bambina una prima visione delle ore 20 e 30 su rai 2 poi avevamo su rete 4 avevamo stella di fuoco beh un western molto spesso mettevano del western su rete 4 su italia 1 becca un classico i ragazzi della terza c c'era la casa magica la terza c ragazze terza c dunque nel 90 beh insomma questa era era forse la terza stagione anzi sicuramente la terza stagione e ultima e forse anche quella di minor successo qui avevamo alle ore 21 e 30 5 ragazze e un miliardario e alle 22 e 30 ecco questo è un programma molto interessante molto divertente italiani che erano era un diciamo un telefilm con i famosissimi 3 3 eduardo romano mirco setaro e gino con gli andaro questo lo vedevo sempre alle 22 e 30 bene un po tarduccio però vabbè su audio tv c'era una prima tv verso il grande sole su rai 3 invece c'era un film kim un film del 1950 sul tele monte carlo c'era invece una coppa uefa e mi sa che replicavano la stessa partita della dirà 7 milioni la tua casa a porto rotondo ecco se siete interessati mandate qui alla fondi investa spa di milano se volete acquistare per soli 7 milioni una casa a porto rotondo peccato che sia del 1990 questo settimanale risata beffarda ecco rai 1 ecco ecco rai 1 ecco gran premio eccolo qui con pippo baudo era un bellissimo programma ecco era un programma che lanciava nuovi volti dello spettacolo e tanti volti dello spettacolo sono nati proprio da qui da gran premio e alcuni ed alcuni ne abbiamo proprio parlato negli scomparsi da sanremo per cui e questo è una cosa che è uno spettacolo al quale dedicheremo io e carlo presto una puntata per cui non sto troppo a raccontarvi comunque era un ritorno anche se poi in realtà era già tornato l'anno prima di pippo baudo con questo gran premio dato gran premio è famoso soprattutto perché spesso vi faranno vedere in televisione pippo baudo che riceve una torta in faccia ecco era proprio tratto da questa trasmissione qua gran premio e dato qui potete vedere antonella ruggiero che non è la ruggiero che pensate voi ma un'altra che partecipò a sanremo 85 andate a vedere se vi piace conoscere la storia delle persone che partecipò da giovanissima proprio da minorenne a sanremo 85 la rivediamo nel 90 su canale 5 invece c'era il classicissimo tele mike con ovviamente la valetta sabrina gandolfi di 21 anni all'epoca veramente giovanissima su rai 2 i giudici istruttore qui il classico l'estate di san francisco proprio direttamente dagli anni 70 su rete 4 avevamo il film alle alla trentanovesima eclisse questo non conosco sinceramente poi su italia 1 invece explorers è come un film decisamente per ragazzi come si evince una fantastica avventura ecco genitori in blue jeans ecco questo veramente un classico dagli stati uniti molti di voi ricorderanno su rai 3 invece c'era appunto samarcanda l'attualità con michele santoro all'epoca un po una novità michele santoro anche se poi vabbè era uno stimato giornalista però nel 90 con questo samarcanda veramente ha avuto un grandissimo successo su ecco su italia 7 interessante c'era thunder 2 uno di quei film un po quei b movies comunque nonostante il nome è italiano questo film ecco qui ancora pubblicità di qualche partito stavolta abbiamo la democrazia cristiana che dice solidarietà cambia il mondo dai più forza ai valori dell'uomo qui solidarietà c'è le varie vede qui c'era proprio aria già d'europa anche se poi in realtà non era ancora europa unita perché l'europa unita si formò solamente nel 92 e poi dieci anni dopo anche la moneta unica l'euro che tutti adesso conosciamo venerdì 4 maggio su rai 1 avevamo il film il cavallo in doppio petto un film del 1968 su canale 5 invece avevamo un programma che si chiamava oggi sposi uno show dedicato agli sposi nella stagione in cui tradizionalmente si celebra il maggior numero di matrimoni ecco qui vedete l'orella cuccarini e sopra qui giorgio faletti il compianto e poi anche qui margherita fumero ed enrico beruschi poi su rai 2 avevamo raffaella e saranno famosi prima puntata del nel mese di maggio con il varietà condotto da raffaella carrà tema portante il lancio in campo giornalistico di alcuni debuttanti che lavorano come cronisti nelle televisioni locali aderenti alla seconda fase delle eliminatorie e il iniziale si è ridotto a 16 finalisti si può votare per mezzo del televoto il servizio giornalistico che più interessa ecco io questo questo programma sinceramente non me lo ricordavo affatto però ne prendo atto alle 20 e 30 l'avevo completamente rimosso e alle 23 e 05 sempre su rai 2 c'era diogene con antonio lubrano all'epoca di 58 anni e qui potete vedere striscia la notizia con che era questa qui a sogna gray cavoli la maggiorata è come non ricordarsi non me la ricordavo più sogna gray cavoli adesso che la leggo allora a su rete 4 banane una fra le schegge così un programma comico su tele monte carlo banane con i gemelli e ruggeri che hanno in giro già da qualche anno è su rete 4 il film victor victoria costo noto su italia 1 big man big man la serie televisiva con baspencer eccolo qui big man questo non dove l'ho vista diverse puntate all'ultima regia di steno ecco eh sì effettivamente perché era morto nell'ottantotto eh sì morto nell'ottantotto l'ultima regia di steno su re tre c'era uno speciale chi l'ha visto attualità aggiornamento sui casi delle persone scomparse ecco notare alle 22 30 su italia 1 c'era calciomania anche qui purtroppo ci tocca parlare spesso di morti ma dato canto parliamo di un giornale del 90 maurizio mosca all'epoca di 49 anni qui la pubblicità di questo settimanale max che molti ricorderanno video music di bologna ecco qua su re uno sabato 5 maggio c'era europa europa anche questo un programma completamente scomparso non se ne sa più nulla però all'epoca era veramente il grande show di rai uno del sabato sera europa europa e qui vedete elisabetta gardini eh che era la conduttrice eh insieme a fabrizio frizzi su canale 5 invece avevamo la corrida di corrado ecco qui potete vedere ecco accanto a corrado una una giovane antonella elia di anni 26 che all'epoca appunto faceva la la valletta di corrado poi dopo ha fatto anche di mike insomma e non solo qui il gioco dei nove è preso in mano da anzi era iniziato lui dopo è stato preso in mano da da jerry scottis non mi ricordo male con raimondo vianello poi avevamo tra moglie e marito appunto che era il famosissimo quiz anche questo non mi perso una puntata con il simpaticissimo marco colombro all'epoca veramente veramente un vippone di canale 5 purtroppo negli ultimi anni un po dimenticato e mi dispiace perché insomma avrebbe meritato miglior sorte però ha avuto anche dei problemi fisici una ventina di anni fa e di questo ce ne dispiacciamo allora su rai 2 invece c'era eh il film che questo famosissimo vado a vivere da solo che è stato il primo film con eh jerry calà protagonista eh di marco risi diciamo il film ed è stato il primo film con protagonista jerry calà in quanto all'epoca aveva lasciato i gatti di vicolo miracoli su ecco su rai 2 ecco questo interessante dei 23 eventi in diretta da zagabria il l'eurovision il insomma l'eurofestival l'eurovisione della canzone 1990 in diretta da zagabria tra l'altro vinse quell'anno proprio toto cotugno con insieme che era una canzone dedicata all'europa quindi questa è una cosa molto importante cavoli tardi alle 23 eventi in notturna proprio su rete 4 avevamo invece eh tammi fiore selvaggio bell'ennesimo cos'è un western cos'è questo qua no non lo so boh ma commedia ma una commedia degli anni 50 no non la conoscevo california beh il solito stuolo di di sceneggiati di fiction di di telenovelas genitori in blue jeans come abbiamo visto anche prima abbiamo su a musica è anche questo un programma musicale molto interessante che andava al pomeriggio su italia 1 alla sera avevamo l'ultimo combattente di chen che era un film come vedete con brusley la leggenda di brusley su rai 3 invece avevamo il programma televisivo alla ricerca della dell'arca con mino d'amato ecco qui all'epoca piuttosto noto ah interessante su italia 7 c'era eh per amare euferia di flavevo mugherini anche questo fu il primo film con eh renato pozzetto ok e qui finiamo invece con una purga ecco un proprio gran finale le foglie di senna per scegliere un lassativo naturale ecco pulse nida e qui la pubblicità ecco della permaflex vero amore vero permaflex e qui ritorniamo alla copertina con i nostri amici eter parisi e francesco salvi va bene grazie a tutti spero che abbiate gradito questo contributo continueremo a leggere ancora riviste settimanali insieme quindi cliccate un like se vi piace lasciate un commento se volete e accetto sempre suggerimenti ciao a tutti da marcus ciao